Ciao ragazzi, oggi vi propongo il brano Impressions of Madrid degli Spirogyra, gruppo statunitense formatosi nel 1974. Questo brano nasce senza batteria e io ne ho creata una personale ed è una cartolina sonora delle atmosfere, delle sensazioni e delle emozioni di chi va a visitare il mercato di San Miguel a Madrid che fu inaugurato nel 1916 e fu realizzato interamente in ferro e poi nel 2009 fu proclamato il mercato più grande di Madrid a livello gastronomico. Io adesso ve lo faccio ascoltare ma più che ascoltare ve lo faccio degustare. Lo degusteremo insieme e allora vi rimando al prossimo video e vi do un grande ciao ciao ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti